Un saluto cordiale a tutti i miei fratelli, è un'allegria salutarvi desiderando tanta forza per voi, tanta allegria, tanta gioia, ricordarvi che gioiamo nelle tribolazioni. Ed ecco il tema di oggi, Dio conosce le intenzioni del cuore e dei pensieri, appartiene a Dio investigare. È un potere riservato al Dio del cielo. Vediamo in questa meditazione come con Davide, quando commise un errore, nella mia opinione è un errore grave, però vediamo come Dio agisce e ha investigato, ha esplorato il cuore. Quando Davide pensò che nessuno avrebbe saputo di questo comportamento che lui ha avuto? Cosa pensava Davide? Sarà che il Dio era limitato? Che il Dio di Davide era cieco? Sarà che possiamo fare lo stesso? Però, come ha detto il Signore Gesù Cristo, che non aveva necessità che nessuno dicesse del Signore Gesù Cristo chi era, chi? Perché il Signore Gesù tutto sapeva. Il Signore, come è lo stesso Signore di ieri, anche oggi agisce così. Agisce così e con Davide, ha compreso da lontano il piano di Davide e invia il profeta Natan e riferisce Natan una parabola e Davide si arrabbia che avrebbero dovuto ucciderlo per aver agito ingiustamente. Dio ha detto attraverso il profeta, tu sei questa persona. E nel verso 9 del capitolo 12 del libro di Samuele dice perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno facendo ciò che è male davanti ai suoi occhi? tu hai fatto morire con la spada Uria Litteo? Hai preso per moglie la sua moglie e lo hai ucciso con la spada dei figli di Ammon. Per Dio era un fatto che Davide uccise Uria Litteo. Era una realtà per il nostro Dio? e questo verso mi fa ricordare delle parole nell'Evangelo quando il Signore diceva se tu desideri la donna del tuo prossimo per il Signore hai già peccato. solo basta l'intenzione, solo basta averlo nel cuore e Dio per Dio è un fatto. Così possiamo estrarre molti esempi che per il Signore sono realtà da dove scapperò del tuo spirito o Dio dove mi sconderò da te o Signore se salgo in un monte lì sei tu e se dico che le tenebre non mi coprono tu risplenderai come il sole. Noi non ci possiamo nascondere dalla presenza del nostro Dio non è per creare timore, paure, no, è per comprendere che il Dio di Davide che lui adorava, lodava e lui ha vissuto diverse esperienze è lo stesso che succede a noi oggi logicamente in modo diverso le circostanze che viviamo perché Dio stiamo trattando nella sua opera e non possiamo nascondere nulla al Signore ci succede come le credenze possiamo ingannare i pastori però possiamo vestirci di santità però quando stiamo partecipando della Chiesa di Dio ministeriale di Gesù Cristo internazionale lì stiamo trattando lodando glorificando servendo il Dio del cielo ci rendiamo conto che quello che si è vissuto anticamente è lo stesso che oggi succede a noi ed è così come Davide è ammonito e lui fa una preghiera sincera si pente con ogni sincerità però allo stesso modo ha pagato il prezzo Dio lo riprende e lui scappa scappa dai suoi nemici come castigo di Dio e lui ha vissuto pentito veramente fino anche in questo Davide ha dato un esempio nel primo libro delle cronache primo libro delle cronache capitolo numero ventotto nel verso numero nove nell'antico testamento primo libro di cronache capitolo numero ventotto verso nove davide da un consiglio suo figlio salomone un consiglio che possiamo darlo ai nostri nipoti ai nostri fratelli ai nostri figli ai nostri parenti o dal pulpito dare un consiglio generale con con le stesse parole che ha utilizzato Davide nel verso nove del primo libro delle cronache capitolo numero ventotto verso nove e dice così tu salomone figlio mio riconosci il dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso queste parole mi fanno ricordare quello che ho ascoltato dalla nostra sorella riguardo i talenti meravigliosa meditazione della sorella servile serve il Signore con un cuore sincero con animo volenteroso e dobbiamo farlo in questo modo lo diceva Davide un uomo che ha vissuto non solamente un'esperienza se no centinaia di esperienze camminando con il dio del cielo sia nei momenti difficili ma anche nei momenti gradevoli momenti di gioia di felicità ma anche di tribolazione momenti di prova o di riprensione è stato Davide un uomo incondizionale con Dio in ogni circostanza ha pagato il suo prezzo però vediamo il consiglio di servirlo con un cuore integro e con animo volenteroso perché l'eterno perché Dio investiga i cuori di tutti investiga i cuori di tutti prende ogni ogni intenzione del pensiero se noi non conoscessimo quello quel dono meraviglioso del dono della profezia se noi non conoscessimo cos'è lo spirito santo quando ci parla questa lettura del libro delle cronache sembrerebbe come un'invenzione o una storia una favola un libro in più una leggenda un racconto una favola una storiella non è così cari fratelli tutti quelli che ci ascoltano non è così nella chiesa di Dio ministeriale di Gesù Cristo internazionale si gode di queste esperienze io dico si gode perché camminare con Dio in ogni circostanza nei buoni momenti nei momenti di prova e ripresi dal nostro Dio è uno degli aspetti che ci fa fare la differenza quando si va in luoghi di adorazione dove lo Spirito Santo non parla per questo diciamo apertamente quello che il Signore dice non siamo orfani non siamo soli Dio conosce le intenzioni dei cuori i pensieri tutto questo lo conosce il Signore e questo è il grande consiglio di un padre che ama suo figlio serve il Signore come chi dice cammina con lui sono stato con lui ho provato tante esperienze e lui conosce tutti i nostri pensieri tutto il nostro cammino e nel Salmo numero 139 Davide ispirato dal Dio del cielo ha scritto in questo modo questa meditazione modeste modeste a parte ci permette pensare che siamo in un che siamo in un luogo meraviglioso non c'è posto per la bugia per la falsità e notiamo che in questa esperienza di Davide Dio chiedeva un cuore perfetto ed è quello che Davide ha compreso e ha chiesto al suo figlio Salmo 139 tu mi hai investigato o eterno e mi conosci tu sai quando mi siedo e quando mi alzo tu intendi il mio pensiero da lontano tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca ecco tuo eterno la conosci a pieno tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me la tua conoscenza è troppo sublime per me talmente alta che non posso raggiungerla concludendo davide delle sue esperienze questo è quello che ci invita la chiesa ministeriale di gesù cristo internazionale in questa congregazione si cammina con dio se si va con il signore non non mi sembra strano vedere centinaia e centinaia di testimonianze ogni testimonianza che si annuncia riporta tre quattro testimonianze è bello è meraviglioso che noi non possiamo paragonare una testimonianza con un'altra dio compiendo è quello che di cui noi godiamo camminare con il dio del cielo qualcosa che vi condivido dice il dio di di mio padre quale padre abramo isacco giacobbe quando era il caso di isacco isacco il figlio di abramo isacco diceva il dio di mio padre quando era giacobbe diceva il dio di mio padre e di isacco generazioni dopo dicevano il dio di abramo di isacco di giacobbe questo è il nostro dio che l'apostolo paolo descrive nella seconda lettera ai corinzi capitolo numero 3 lui esprime in un verso il signore è lo spirito nel secondo libro di corinzi capitolo numero 3 nel nuovo testamento nel verso numero 17 dice ora il signore è lo spirito e in questo modo fratelli colui che ha costruito i ceni e la terra che è risuscitato lo stesso che mi parla che ci parla è lo stesso di ieri di oggi e per i secoli dei secoli come dice il salmista questo è troppo bello per me e mi invita questa esperienza e tutte queste esperienze di consolazione di esortazione di riprensione di edificazione per lo spirito santo concludo che il dio di abramo il dio di sacco il dio di giacobbe che descriveva davide il dio di mio padre è lui che ci parla una testimonianza conosco un fratello questa persona stava in carcere per le sue idee politiche non aveva timore di dio e non credeva in dio però la situazione difficile ha portato a conoscere la nostra chiesa il nostro luogo di congregazione e lo spirito santo gli ha parlato e lui è rimasto commosso però lui aveva un'idea della lettura dell'Evangelo del Signore Gesù Cristo idee religiose e lui non ha creduto tanto in questo ed è andato via e si domandava sarà che chi mi ha parlato è lo stesso che hanno crocifisso sarà che chi mi ha parlato è risuscitato tra i morti sarà che vive e mi ha parlato oggi lui si è riservato le sue domande non ha voluto condividere la domanda ha pensato dentro se stesso ha pensato che ci avrebbe offeso e ha custodito nel suo cuore la sua domanda e ha nuovamente visitato dopo un po' la congregazione e lo Spirito Santo gli ha detto sei figlio io sono quello che è morto per te nella croce del Calvario benedetto sia il nostro Dio a questo è quello che noi lo diamo e per mezzo di tutte queste esperienze rimaniamo profondamente innamorati e ci rendiamo conto che Dio è una realtà fratelli della chiesa ministeriale di Gesù Cristo afferratevi alle vostre promesse seguite le raccomandazioni del nostro ministero e che posso dire aggiungere a Dio se la nostra sorella Maria Luisa ha pregato per tutti noi però se dico a Dio quanto segue nel nome del Signore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo ricorda Dio mio quelle richieste che la Tua Figlia ha fatto per tutti noi includendo le persone che ancora non Ti conoscono Signore ci appelliamo alla Tua immensa misericordia e tutte queste richieste che la Tua Figlia ha fatto per noi di pregare per noi per le nostre necessità per le nostre malattie oh mio Signore lì alla Tua presenza queste richieste e io so Dio mio che Tu continuerai a dare vittorie e trionfi e continueremo ad ascoltare le Tue glorie nel nome del mio Signore Gesù Cristo grazie ti dico Signore un saluto a tutti i fratelli Diovi Benedikt